Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video che come avrete potuto vedere dal titolo sarà un video un po' più originale rispetto agli altri che ho portato sul canale finora e come avrete potuto ovviamente vedere dal titolo sarà una cake challenge che sarebbe tipo una pizza challenge però con le torte e questo qua è il primo strato di torta se non vedete perché non è un pochino più piccolo però prima di cominciare ricordatevi di iscrivervi al canale e di ovviamente attivare la campanella aspetta solo questo nei video, solo di fare dindon dindon vero Chiara? ricordatevi inoltre di seguirmi sui miei social cioè instagram dove mi chiamo gioviozzettino basso arancio gioviozzettino basso chiara basta ricopiarmi e tiktok dove mi chiamo gioviozzettino basso arancio basta ricopiarmi di nuovo direi di non perdere i fai chiacchiere e iniziamo il video allora in pratica come vi avevo detto abbiamo la base delle torte e qua abbiamo tutte le altre qua ci sono i bigliettini che andremo a pescare che andremo a pescare e quello che mi capiterà per esempio ora faccio un esempio veloce dovremmo andarla a mettere sulla torta e ogni volta aggiungeremo un strato altra cosa è che la panna la useremo entrambe sia io che Chiara così da dare lo metteremo in ogni strato e sopra però oltre questo fino al cielo e oltre questo avremo tutti questi ingredienti qua che state vedendo e si spera bene iniziamo inizia tu dai smalti si che bello allora però Chiara permette di mettere la panna schizzata da panna schizzata da panna te la fai? Chiara attenzione ma io lo devo fare basta basta che te ne pare? mette una premata intanto lo faccio anch'io così almeno mi porto avanti non metterla come me in che senso non metterla come me? grazie 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 starò io vai credo basti Chiara ok aspetta che te la sistemo io dai metti si smarties si smarties dove sono? e allora dove li mettiamo e vabbè poi si pulisce e rimane lì sono finiti sono finiti sono finiti li ho finiti tutti vabbè wooo dai tocca a me speriamo bene ok merenghe ok basta basta thank you addio no allora mettiamo quelle colorate quelle di queste guarda Chiara le vorresti? io direi che non le puoi prendere allora io no come vari? tu non puoi varare magari ok queste qua te le do una faccio se non ti entrile ops ok andiamo avanti Chiara mettiamo questa qua tu si schiaccia ok ops parola inizia a prenderli no no caccia non deve essere le lunghe le cose intanto devo mettere in testa salame uuuuuh salame uuuuuh come si ahahahah allora adesso il salame il salame si secondo cosa se cosa è si è messi bene Chiaretta prendi salame 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 te lo passo eh tutti quanti non puttica non puttica non puttica non puttica signora andiamola è buono ho presito ketchup ketchup maschinello si sta andando benissimo va bene anche a mano si proprio ma buono buono perfetto ora dobbiamo mettere un altro di questo vai oppla ora la mamma aspetta aspetta facciamoli vedere facciamolo vedere prima facciamolo vedere per ora questo è il quanto il mio un pochino crassistello eh e l'altro anche il mio ma il tuo scusa ma il tuo è storto ti sembra la torre di pisa è vero cos'è vabbè se niente sembra quasi un cuore e allora dov'è sto sprecando Giorgio non lo sto sprecando non lo sto sprecando dobbiamo mettere e lo va ok prendiamola poi perchè ti fa poco esatto cosi togli tutto il gas e non si può usare più adesso si va a prendere il salone ok oh oh scusa mamma non c'è la mamma e quindi possiamo fare quello che vogliamo ancora cosa l'avevi già detto da qualche parte questa qua ah si un egli snack andatela a vedere se non l'avete visto è stato bellissimo il video e anche quello che è uscito ieri si ti ha detto che vi spostarmi delle cose eh scusami mamma scusami tanto scusami ehm tu che è? non riesco a spalmarlo verso di qua difficile vabbè vi roma ti rollo la mia dirri patatine 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 si ma tu sei felice vabbè ok non bene io non parlo e butto patatine patatine semu' sta patatine 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 abbandiamo, abbandiamo con le patatine, abbandiamo, basta, mi stai finendo a venire svolto, ora tocca a me, sfortuna, cazzo, pasto, frutti di bosco, Chiara mi sta andando benissimo, mi dizia, scusa, dai, dove lo fa, allora mi metto questo, mi ruba le cose, no, non è tuo, non ti aspetta a te, non aspetta a te, mamma, dovevi prenderle, anche se non ci sei, prendetevi, mi dai, mi dico, no, un attimino, devo mettere pure, la panca, la panca, no, la panca cosa, la panca, tocca a me, eccola qua, ora andiamo a decorarla un pochino, tu hai le mani sporche, olive, si, lei è felice, vai, abbandiamo, no, abbandiamo niente, cazzo, facciamo tipo, le cose, ma tu come farai a mandarti una panca del genere con la panca? Allora, scusa, stai, 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 ormai prendi quello che hai preso, vai, hai preso quello? Prendo, sì, sento, 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 si, sei tu con la sfortunata qua, ora io ho preso, va? va? no no c'è ancora un pallone ma sono anche scordata ma era bellina ora dove la metto? mettila sopra le cose così diventa schifo che peccato io mi dico la mia parte su ma era così carina e così bella allora Chiara tocca te Nutella Nutella dai non sarebbe stato perfetto per la mia cioè ci sono le meringhe il marshmallow poi i frutti di bosco sarebbe stato perfetto la Nutella un pochino qua non riesce a fare niente dammi qua non so quanto ti aiuti la Nutella in questo chi pensa che e dai 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 te lo devo ci serve ancora non so non so non so non so non so scusami mamma che basta anche se non ci siamo si senza guardare vai prendi prendiamoli insieme sì da va scusami tanto Giorgio tu ti devi scusare che hai tipo salame che in realtà tu hai il mio stesso numero di cose brutte allora questa schifessa non è una schifessa è buonissima non ne sarei tanto sicura la tua allora è schifosa è fatta da martin, salame, olive patatine, nutella e oreo tocca al Giorgio invece poi c'è la mia bellissima, carina merengue, marshmallow frutti di mosco, pistacchio pistacchio e pesto e la filareffia e ketchup tiara ti devi dire una cosa di là allora votate quale giunta vi è piaciuta di più la mia o di giunta commentate quale secondo voi più bella più buona secondo voi perché ora lo andiamo a seggiare eh purtroppo poi ci vedete e poi diamo da un voto da 1 a 10 ok comunque la domanda ve la lascio in lei da questo fatto non lo so da una di queste due parti da qua o da qua o da là o da me o da tu comunque assaggiamo e ora dobbiamo assaggiare diamo l'odore l'odore sa di fesso dai e poi sa di frago tu assaggia questo sa di oreo non so di farlo mi piacerebbe la mia più buona e ora mi rimane assaggiare io me ne scappo ciao ma no no mi ricordo già io me ne assaggio perché poi le assaggerai anche tu e io sa ma la mia è buona non ho tanta fiducia nella tua non lo sai ma tu andato stai mangiando pezzi comunque dovremmo iniziare aspetta allora dobbiamo mangiarla come inizi tu inizia Chiara ad assaggiarla chi ci ha fatto? ahahah 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 aspetta aspetta allora scusa ma davvero? vai mangia guardate le olive bianche le nuve olive 2020 non riesco non riesco mi dispiace dai vediamo allora 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 questa allora non mi convince buona? mi do nove nove? sto schifezza nove ora sono curiosa di assaggiarla però ma ops ops lo chef si è spaccato lo chef si è spaccato mi dobbiamo mi dobbiamo mi dobbiamo intanto posso assaggiarla io? no 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 la soglia con l'altra non posso preparatine con l'antella allora posso andare io? ok mi dobbiamo schifezza pronti? proviamo con la mia secondo me le dobbiamo sicuro eh? no tutto sbriciolato allora aspetta tengo pure la fragola quindi aiuto allora ok allora il pesto all'inizio si sente un sacco però poi andando avanti ad assaggiarlo masticandolo non si sente più no niente non si sente più il pesto e diventa buono perché si sente la fragola il mirtillo la panna i marshmallow le meringhe meglio che non vi dica quello che mi ha detto in questo momento e le mie mani sporche comunque buono appetito oltre per il pesto le do nove allora bastiamo ai saluti visto che abbiamo assaggiato le nostre due schifezze ma anche alla fine non sono tanto male allora saluto Auri David si spera un grosso bacio ciao coi baffi coi baffi un bacio coi baffi e poi saluto Desiree Pellegrino un bacione mua bacione mua e poi saluto Laura un bacione mua che mi scrive più di altro per la sua mamma mi ha scritto ciao io sono una mamma di una bambina che si chiama Laura la potresti salutare in un video e ti vuole bene anche io la voglio bene anche io la voglio bene ciao ciao mua un bacione a tutte allora saluto Alice ciao Alice mua saluto l'altra Alice ciao un'altra Alice che è piccola ciao mua poi saluto a Rihanna ciao Rihanna ciao Rihanna a Rihanna direi che il video può finire qui ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella dilla dilla e ovviamente di mettere like di commentare di condividere di fare quello che volete basta con il dislike perché le ho mettristi guà spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 uè 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 torcina la torcina la carota ciao Grazie a tutti.